Il Festival Capability è un modo di parlare di disabilità in chiave moderna e contemporanea ai giovani, partendo appunto dalle nostre capacità, non dai nostri difetti, oppure i nostri difetti sono quelli che ci caratterizzano e che ci rendono unici. Oggi siamo con centinaia di bambini, affronteremo il tema della disabilità, lo faremo con una serie di testi dedicati all'infanzia. Fra i numerosi appuntamenti della seconda edizione del Capability Festival, la rassegna cura dell'assessorato alle politiche sociali del Comune di Napoli che vuole accendere i riflettori sulla disabilità e parlarne in un contesto moderno e inclusivo, Questa mattina alla Fondazione Focus sui quartieri spagnoli, i temi hanno coinvolto un pubblico particolare come quello dei bambini, attraverso un linguaggio coinvolgente per trasmettere in maniera immediata i valori chiave del Festival, abilità, creatività, innovazione e inclusione. Ho qui con me Francesca Assirelli, un'illustratrice napoletana con la quale abbiamo realizzato una serie di testi destinati ai bambini proprio per affrontare il tema della diversità e della disabilità. Attraverso i disegni e i testi, quindi i libri illustrati, come ci siamo poi avvicinati a questo mondo della diversità e oggi vedranno appunto sia dei miei originali e che parleremo del mio lavoro. Il Festival continua ancora oggi e domani, le attività pomeridiane sono all'albergo dei poveri e ci saranno mostre, performance, aperitivi e dibattiti. Grazie. 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 Grazie.